A me mi sembra facile per una detta lavori non dire partita scudetto perché prima di tutto a di là della detta lavori ci sono 11 partite che può succedere di tutto, la matematica non è un'opinione, quindi dopo questa partita ci sono altri 33 punti in valio, 11 partite dove può succedere sempre di tutto, quindi che poi sia una partita affascinante, importante sentita per poi perché i napoletani da sempre in una partita contro la Juventus rappresenta una cosa di speciale, questo sì, questo lo avventiamo tutti, ma da questo punto di vista siamo anche abbastanza abituati perché ne abbiamo già fatte tante sfide del genere e qualcuna ci è andata bene a noi, qualcuna è andata bene a loro, insomma, tante soddisfazioni ce le siamo già tolte.